Io sono Palladium, campione Solark. Guerriero dell'ordine e dell'equilibrio. Tu e quei ladroncoli dei tuoi amici avete rubato i frammenti del cuore del titano. Riconsegnateli immediatamente. Affondo Solare! No! Nord, di al tuo guardiano di consegnarmi i frammenti prima che il santuario ci crolli addosso. Affondo Solare! No! Questo posto sta per esplodere. Dov'è l'uscita di emergenza? Voglio andarmene da qui. Gormiti! Potenza degli elementi! Energia del magma! Combatti! Koga! Difensore del magma! Molto bene! Chi devo fare esplodere? Guardiano! Credo che l'eclipsia voglia del magma! Possiamo accontentarlo! Magma salvaggio! Ancho, ancho, ancho! Ancho, ancho, ancho!